Max Faietti Ogni volta che devo pensare a un nuovo marchio, è sempre un momento speciale. Quando Max Faietti mi chiese di pensare ad un logotipo che identificasse meglio la sua ventennale attività, sostituendo il marchio Corporated 2F con un'icona accattivante e trasversale, la cosa mi agitò particolarmente. Perché Max, oltre a essere un mio cliente, è anche un mio caro amico. Non potevo sbagliare quella che in pubblicità si chiama Mission. Giocherellando con un filtro di Photoshop, deformando una foto di Max, intuì che la strada era dettata. Lui era diventato un elfo con le orecchie appuntite, gli occhi accigliati. Il corpo con l'effetto lente aveva una fisionomica innaturale ed i piedi erano sproporzionati. Lasciai passare un po' di tempo. Ogni tanto riguardavo l'elfo. Sapevo che la caricatura era stata apprezzata da tutto il gruppo di lavoro 2F. Abbandonato il mio Mac, mi misi a disegnare Akina, molto più naturale per me. Delineando una sagoma tutta curve e dai tratti dolci, affilando soltanto le orecchie. Le allungai così tanto che diventarono corna. Dalle corna cominciò a prendere forma un diavoletto. E in effetti pensai, Max è un diavoletto, sempre in movimento, in giro per il mondo con attività sempre nuove all'avanguardia, mettendo sempre tanto entusiasmo in tutto quello che realizza. Mancava però qualcosa alla figura. Un forcone. Per essere certi che il colpo fosse assicurato. Magari impugnato con la mano destra e la sinistra appoggiata a un fianco. In attesa del tocco decisivo, mandai a Max il primo bozzetto con una nota. Manca qualcosa. Manca la coda, disse lui. Disegnai subito una bella coda affilata che spuntava da dietro. C'ero quasi. I marchi vanno lasciati riposare per un po' di tempo, guardandoli ogni giorno, aspettando che ti comunichino qualcosa. Il tratto era deciso. Accigliato negli occhi, che da subito erano diventati aguzzi e penetranti. Era proprio simpatico, ma un po' troppo aggressivo. Scarpe grosse e cervello fino. Mi ricordai il detto di mio nonno. E disegnai subito al diavoletto piedi grandi e grossi, ben appoggiati a terra, e un po' cartoon. Fatto. Il carattere che Max cercava era nato. Mancava però un nome adatto alla creatura. Al telefono Max mi suggerì Max Deville, pronunciato alla francese. Non mi soddisfaceva. La pronuncia lo lasciava sospeso a mezz'aria. Troppo evanescente. Max Deville, all'inglese, a me sembrava molto più solido e consono all'attività che doveva rappresentare. E così fu Max Deville. Da allora, Max Deville è diventato il marchio DOC negli eventi più importanti e un punto di riferimento per coloro che ne prendono parte. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.